L'esperienza di giocare al Palafantozzi di Capodorlando non ha portato fortuna al basket giarre, che nel prestigioso impianto tirrenico cede alla nuova Agatirno nella quinta giornata del campionato di Serie C regionale di pallacanestro. Finisce 84-74 per i padroni di casa, in una gara in cui le canotte gialloblu partono bene, ma poi si spengono via via, già a partire dal secondo quarto che l'Agatirno chiude avanti più 6 sul 38-32. Per tenere in piedi la partita non bastano Ciaurella e soprattutto Caminiti, in cabina di regia che con i suoi 24 punti si dimostra top scorer del match. L'occasione di riscatto arriverà per il basket giarre domenica, quando alle 17 al Palaiungo arriverà la Virtus Trapani che in classifica 4 punti come il giarre. L'anno scorso i due successi contro il Granata nel girone dei play-out furono per quattro pani e compagni determinanti in chiave salvezza. Grazie. 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 Grazie.